Professore, Salerno è una città di mare con un grande porto che ha puntato sul turismo, quindi questi due aspetti che si fondono. Perché avete scelto di offrire questo Master? Immagino anche per dimostrare, per certificare che ci sono molte, tante opportunità. Assolutamente sì. Il Master, che è un'iniziativa formativa che parte da un accordo quadro tra l'Università degli Studi di Salerno, il Professor Tomasetti e l'Autorità di Sistema Portuale del Martireno Centrale, presunto dal Professor Pietro Spirito, ha deciso appunto di avviare un'attività formativa specifica sui temi del trasporto, della logistica e del turismo per dare risposte al territorio salernitano, in quanto come certifica alla Camera di Commercio c'è una penuria di figure professionali idonee a gestire le complessità che giorno dopo giorno intervengono in questi settori. Ad esempio? Ad esempio, figure professionali addette alla logistica, specialisti nell'ICT a supporto appunto della logistica e del turismo. La Camera di Commercio individua appunto in queste figure professionali le più importanti carenze che ci sono sul territorio campano e quindi ovviamente sarebbe opportuno avviare appunto una rivitalizzazione di queste figure professionali attraverso interventi formativi specifici con un master universitario di primo livello che prevede nella sua articolazione 600 ore di stage presso le aziende, quindi un'attività formativa altamente professionalizzante appunto rivolta a un pubblico di giovani e anche meno giovani che possano opportunamente integrarsi nel territorio salernitano e appunto fornire un supporto valido alle attività di trasporto, logistica, si pensi al Porto di Salerno e le attività del Porto di Salerno, la rilevanza del settore turistico, la costiera amalfitana e quindi ovviamente una valorizzazione del territorio non può non passare attraverso queste iniziative formative. Ecco, che arriva in un momento direi molto delicato, in un momento in cui il Porto di Salerno sembra, il suo valore, la sua funzionalità, le sue capacità sembrano essere state messe un attimo in discussione però forse proprio questo master potrà dimostrare che invece c'è grande interesse. Assolutamente, questa è la direzione proprio in virtù di una costruzione di un sistema di porti campani il master va proprio in questa direzione, cioè la presenza dell'autorità portuale campana e l'Università di Salerno appunto probabilmente riusciranno ad equilibrare un poco quelle che sono le opportunità presenti sull'intero territorio campano perché ovviamente oramai non si può prescindere da una rete di porti, i porti non possono essere più visti come realtà individuali ma devono essere messe al sistema appunto per il miglioramento e la valorizzazione di quelle che sono le potenzialità logistiche del territorio campano.